Intanto come stai e come sta il Pescara? Io sto bene, ho voglia di giocare come tutti i miei compagni, ci siamo preparati fisicamente bene penso e anche sul campo abbiamo lavorato per mettere ancora di più dentro i meccanismi del mister e non vediamo l'ora che arrivino questi playoff. Arrivate ai playoff con l'ottima prova di Picerno, un 3-0 esterno contro una squadra che in casa era pericolosissima si è alzato il morale, si è alzata l'autostima? Sì, l'autostima è sempre stata alta, abbiamo avuto magari il periodo dove non riuscivamo a fare risultati però l'autostima è sempre stata alta, la vittoria di Picerno è da dimenticare purtroppo e cerchiamo di giocarci ogni partita come il meglio possibile. Di sicuro a Picerno si è vista la miglior versione di Merola, un rigore procurato, un assist per l'Escano e un gol. Sì, io spero di continuare a fare queste prestazioni, io do tutto in campo e spero di portare il Pescara più in alto possibile. Ti ricordi cosa ha detto Zeeman dopo la partita? Sì, non era contento mi ricordo, però spero di farlo contento e vediamo poi se lo dirà o no. Come stanno andando questi giorni senza partite con il lavoro fisico di Zeeman? No, penso che per qualsiasi giocatore lavorare sapendo che poi non arrivi la partita un po' ti colpisce, no, però il lavoro del mister abbiamo fatto un po' di giorni a correre con qualche gradone ma sappiamo che ce lo porteremo dietro durante le partite. Qualche giorno fa parlando con l'Escano con il sorriso ha ricordato quell'entella foggia dello scorso anno. Tu non avevi il sorriso? No, infatti lui aveva il sorriso, noi ne io e nel mister avevamo il sorriso. Ma li davate di più voi? Siamo usciti per comunque avere il doppio risultato perché loro erano avvantaggiati, però sono state sicuro due belle partite e speriamo che succeda il più tardi possibile. Che playoff ti aspetti Davide? No, mi aspetto che noi ce la giochiamo con tutti perché non siamo inferiori a nessuno, siamo una squadra forte, abbiamo recuperato anche dei giocatori che ci possono dare una mano durante il cammino dei playoff e siamo tutti a disposizione e cerchiamo di fare il meglio. Ti chiedo qualche aspetto proprio sulle avversarie del Pescara. Tutti hanno detto Crotone e Cesena un gradino sopra le altre, tu sei d'accordo? Un gradino sopra? Non lo so, come ho detto ce la possiamo giocare con tutte. Io metto anche il Vicenza perché secondo me sono un'ottima squadra, però sicuro ci sarà qualche mina vagante che potrà dare fastidio. Ma te l'ha fatto qualche sorriso Zemani l'allenamento? Sì, 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 sorrida. Quindi diciamo che sono finte le arrabbiature a fine partita? No, sono vere, però qualche sorriso l'ha fatto. Grazie. Grazie. Ok.